la cazzone chiedendo che la cintra è canolo canolo, eh certo schiaccio ucannolo schiaccio ucannolo, chiaccio ucannolo ah non si chiama solo ucannolo si chiama ucannolo la cazzone è schiaccione tu prendi la 104 vero? da l'accompagnamento però ma no, che una roba ci stiamo allora, l'Olimpia Madonia nella vita fa quello che faceva prima cioè lavoro in un call center Io scusa, ma quando chiami che fai una telefonata, fai... No, io fondamentalmente non chiamo, io quando ricevo, però è successo che in una chiamata abbastanza turbolenta, diciamo così, mi sono dovuta staccare dalle cuffie perché ero partita con la risata ed è stata una tragedia. Un contratto pazzesco. Però rido anche quando c'è qualche funerale. Ma, cioè, ma... Perché? Ma no, ma ragazzi... Come, ti capisci? Ma se questa... No, sì, ha qualche bella funerale, ma perché la... Ma perché, così, per te le allegri. Ma io già me ne immagino morti che piangono. No, è la tensione, è proprio la tensione che mi fa venire fuori una cosa di questo genere. Pensa se... Ed è drammatica. Perché scattare il grido di Chen, che terrorizza l'Occidente, scattava il pianto. Così? Allagavi tutto. Allagavi tutto. Posso confermare che non c'è la verità? Direttamente dal Teatro Sette di Torino, va ora in onda il... Salotto del Vip Presenta Stefano Capano Con la partecipazione straordinaria di... Mary Sarnataro Buona visione!